Invece ho sentito qualcuno che parla di obbligo. Ottimo, ottimo. Vogliamo parlare di obbligo? Parliamo di obbligo. Andiamo a votarlo. Votiamo l'obbligo per tutti, per chiunque, per gli neonati, per cose. Andiamo a votarlo. Voglio vedere 5 Stelle a parlare di obbligo, perché alla fine tutto ruota lì. Cioè queste cose succedono solo ed esclusivamente, perché c'è un cazzo di 40 e passa per cento di deputati che sono stati eletti nel programma quello di combattere la vaccinazione obbligatoria e invece, guarda caso, si adattano a qualsiasi cosa che fanno. Perché se non ci fosse la maggioranza, e noi e il Movimento 5 Stelle siamo più del 50% dei deputati, poi ci aggiungiamo anche Fratelli d'Italia, queste cose non passano. Gli si dice, vai in Parlamento, e in Parlamento la maggioranza non c'è. Invece questi simpatici soggetti consentono tutto, tutto. Capito? Però io voglio vederli in faccia. Allora a quel punto parliamo di obbligo, parliamo di obbligo. Andiamo in Parlamento, votiamo l'obbligo vaccinale, io voto no, qualcun altro voterà sì. Dopo però che i 5 Stelle, perché senza loro non si vota l'obbligo vaccinale, dopo che i 5 Stelle hanno votato l'obbligo vaccinale Covid a tutti, agli insegnanti, ai bambini, a cose di questo tipo, bene, a quel punto sparisce il consenso informato. Perché se mi obblighi col fischio che io ti firmo che sono d'accordo e che scarico dalla responsabilità nel momento stesso in cui faccio la vaccinazione, e poi tu Stato mi fai nuovo, qualsiasi cosa succeda. Una causa dopo l'altra, 76.000 reazioni avverse, 76.000 cause. Vediamo, facciamolo così, qualsiasi altra cosa, perché che invece da vigliacchi, da vigliacchi si camuffa come obbligo, ma non lo è. Vedi per esempio il Green Pass per i servizi essenziali, è un modo da vigliacchi di imporre l'obbligo vaccinale senza assumersene le responsabilità. Cari vigliacchi, voi che volete fare il Green Pass in modo tale da rendere la vita impossibile a chi non si vaccina, abbiate le palle, le palle di proporre l'obbligo. E andiamo in Parlamento e ce lo votiamo tranquillamente. È chiaro? Dopodiché, via il consenso informato, e tu, Consiglio dei Ministri, tu, Ministro Grillino e cose di questo tipo, sei responsabile.